Giovanni Italia, Bassa Bergamasca ha voluto scendere in piazza oggi, sabato, sfidando il vento per dire sì a una riforma che premia la meritocrazia, che pone fine a logiche clientelari, che pone fine a contratti a tempo determinato e all'abuso di questi contratti a tempo determinato e che va in una direzione favorevole ai giovani, favorevole alle persone che hanno voglia di lavorare e hanno voglia di contribuire alla crescita economica della società. Ci potete contattare tranquillamente su Facebook, il mio nome è Alessandro Rigentini, potete contattare me o la Giovanni Italia, abbiamo anche un profilo di Facebook e un sito internet, giovannitaliabergamo.it